Ben ritrovati. Parto con delle giustificazioni, che vogliono essere più spiegazioni che giustificazioni, ma lo so anch'io in primis. Sono giustificazioni, ma la Juventus è una squadra giovane, una squadra molto giovane. Ieri sera tra Juventus e Parma abbiamo visto la sfida più giovane possibile in Serie A. La Juventus viene da un repulisti di ingaggi e d'età media. Questo è quello che abbiamo visto quest'estate. Sto giustificando, sto spiegando. Sì, è vero. La Juventus ha speso 200 milioni quest'estate. Vi ho già spiegato il discorso legato a quello che va considerato con spesa, con risparmi sugli ammortimenti, dei cartellini, degli ingaggi, sull'età media ridotta. D'accordo. Però spesso e volentieri non si prende in considerazione anche il fatto che la rosa che c'era l'anno scorso era una rosa ristretta, ridotta. Perché la Juventus, e non per demeriti sportivi, non ha giocato le coppe. Dovevi allungare la rosa. Dovevi migliorare la rosa. E qui entra in gioco la domanda delle domande. Non va a riguardare Tiago Motto e i calciatori. Va direttamente su Giuntoli. L'hai fatto? Hai allungato e migliorato la rosa? Ad oggi viene da dire di no. Facile oggi rispondere a questa domanda. Ma viene da dire di no? Non significa che sia no. Sono due concetti diversi. E questa è una risposta che avremo soltanto alla fine dell'anno. Per un motivo molto semplice. I tre top player, anzi i tre top colpi, non top player, i tre top colpi sulla carta dal punto di vista degli ingaggi, dal punto di vista dei cartellini, che sono Douglas Lewis, Nico Gonzalez e Tom Cobainers, praticamente non li ha mai avuti. Non sono mai stati a disposizione della Juventus con continuità. Quindi alla fine della stagione capiremo se il mercato è stato giusto, se il mercato è stato sbagliato, se alcuni colpi si potevano evitare, se altri si dovevano fare in altri ruoli. Oggi, ripeto, viene a dire no. L'eventus non è migliorata per forza di cose. Ma non sono convinto che sia effettivamente così. Mi rifiuto oggi di ancora dare questa risposta definitiva. E aggiungo che l'infortunio di Bremer è un disastro a cui per forza di cose dovrai riparare, rimediare con il mercato di gennaio. Perché è un infortunio troppo impattante. Io, solitamente, quando finisce la partita, inizio un po' a scrivere su Twitter quelli che sono pensieri che poi voglio per forza di cose riproporre all'interno dei video. E dato che Twitter è imploso letteralmente, come in realtà tutti i social, ma poi Twitter è sempre quello che ha una cassa di risonanza, secondo me, maggiore in assoluto perché trovi tutto all'utenza, dall'utente troll, al content creator, al giornalista, all'opinionista, tutti li trovi su Twitter. È imploso e si è parlato di Allegri. Ora, io dirò questa cosa e questa soltanto perché non voglio spostare il dibattito su quello. perché è un dibattito che non ha senso e non è nemmeno rispettoso, né per Allegri, né per Tiago Motta, né per i tifosi della Juventus. Magari Tiago Motta quest'anno fallirà. Non lo escludo perché non ho la sfera di cristallo. Io non sono un indovino. Spero che non sarà così. Credo che non sarà così. Ok? Ma questa è una mia lettura e una mia speranza. Ma anche se fosse, anche se Tiago Motta dovesse fallire, un suo brutto anno non andrebbe a rivalutare in positivo i tre presenti di Allegri, che resterebbero, per me, insufficienti rispetto a quello che deve essere la Juventus. Qualcuno mi potrà dire, eh ma allora la Juve Tiago Motta quest'anno? Un attimo. Ci deve essere la speranza che il prossimo triennio della Juve sia migliore rispetto al precedente. Questo è chiaro. Vi invito assolutamente a rimanere concentrati su quello che è il primo anno di una guida tecnica che sta faticando, sta facendo fatica e che è giusto evidenziare questa fatica che si sta facendo a supporto di una tifoseria intera. Qualcuno mi potrebbe dire eh però tu l'anno scorso con Allegri bla 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 lo scorso anno era il terzo della stessa guida tecnica. Alla fine del primo anno di Allegri Bis, andatevi a fare una ricerca sul canale, dicevo che era giusto dare continuità per cercare di avere dei miglioramenti. Quei miglioramenti non sono arrivati e questo ha portato a evolvere un pensiero su Allegri. Questo parallelismo tra quello che dicevo l'anno scorso di Allegri e Tiago Motta lo potreste fare al limite al terzo anno di Tiago Motta. Quando arriveremo al terzo anno di Tiago Motta potrete dirmi ma sì tu con Allegri al terzo anno dicevi quello. Se dobbiamo valutare il primo anno di Tiago Motta andate a ripescarvi quello che dicevo di Allegri al primo anno. Perché qui ormai sembra un gioco a dire eh Allegri, eh Tiago Motta. Secondo di quello che vi piace vi diverte di più. Senza mai prendere in considerazione che iniziare dei cicli non è mai facile. Degli allenatori che prendono in mano delle squadre nuove non è mai facile. E questo è il vero grande problema. E questo qua. Io vi dico già adesso c'è una cosa che posso dirvi già in quest'istante che non cambierà da cui a fine stagione che voglio andare avanti con Tiago Motta per tutto l'anno a meno di disastri ovviamente. L'unico motivo per cui posso cambiare idea durante l'anno sono di veri e propri disastri. Ma non venitemi a dire che adesso è un disastro. Adesso non è un disastro. Adesso c'è un piccolo momento di difficoltà che sta iniziando e che è evidenziato dalle prestazioni, dai risultati, dai gol subiti, dai gol fatti, dai numeri. Ma non è un disastro. Io nel disastro voglio proprio entrarci prima di cacciarlo. Non venitemi a dire inizia a parlare dell'esonio di Tiago Motta perché non c'è assolutamente la volontà di farlo in questo momento. Non c'è la necessità. Io voglio credere in un progetto. Quando inizia un progetto, se non hai il coraggio e le palle di credere in un progetto, hai fallito. Quindi io voglio credere in questo progetto. L'Asti e Fiorentina domani se vincono, ci superano. Amen. Siamo a ottobre. 30 di ottobre. Novembre. Perché ormai ottobre è finito. Siamo a novembre. Le stagioni non finiscono a novembre. Io ho fiducia in questa stagione. Continuerò a avere fiducia in questa stagione. E quello che voglio è arrivare a fine anno. E avere la concezione di essere una squadra forte. Ve lo dico adesso che è Halloween. È il 31 ottobre 2024. Io credo che la Juventus quando torneranno determinati giocatori andrà a migliorare. Poi bisogna prendere in considerazione i limiti che ci sono in Tiago Motta. Bisogna nascondersi. Un limite su tutti di Tiago Motta è che sembra incapace oggi di preparare la squadra a più di una partita a settimana. Cosa che negli altri anni, nelle altre stagioni col Bologna non faceva. Oggi invece che la Juventus gioca la Champions, gioca la Coppa Italia, gioca la Supercoppa, gioca il Mundial per Club, ci sono tante, tante, tante partite, più di una partita a settimana e in questo momento Motta non si sta dimostrando all'altezza di prepararle. Questa è assolutamente una cosa da dire. Poi io ho quattro cose più una bonus che mi preoccupano al momento della Juventus di Tiago Motta. La prima e la seconda sono incatenate, ma ve lo dicevo già nel video post partita, che o non si subisce e non si crea, o si crea e si subisce tanto. Quindi questi due punti vanno a braccetto tra di loro. Siamo lenti nella manovra e nell'ultima partita ho visto pure una Juve stanca. Non solo lenta, ma pure stanca. La stanchezza secondo me è ingiustificata a questo punto della stagione. Non si può esserci a stanchi, assolutamente no. Numero quattro. Finiscano partite come questa e semplicemente pensi non abbiamo meritato di vincere, non abbiamo fatto abbastanza per meritare di vincere. E questa è una brutta sconfitta. Per quello vi dicevo a fine anno voglio arrivare a pensare, avere la consapevolezza, avere la sensazione di essere una squadra forte. Perché oggi non lo siamo. Il quinto punto, che è quello bonus, ma forse anche quello più importante, è che sembra che oggi questa squadra non possa permettersi il turnover. se non giocano sempre i migliori, perdi di stabilità, soprattutto dietro, a maggior ragione da quando si è fatto male Bremer. E questa roba ti fa tornare poi al punto 3, cioè che siamo stanchi. Ma se siamo stanchi nella giocare sempre gli stessi, nella giocare sempre i migliori, e sempre quelli più in forma, diventa un bel problema. Perché questa è la stagione della Juventus con più gare in assoluto durante l'anno. Diventa un bel problema. E a maggior ragione diventa un problema se Motta in questo momento non è in grado di gestire più di una partita a settimana. E questo dove porta a una fase di crescita, a una fase di miglioramento, a evidenziare dei problemi, prendere questi problemi e cercare di risolverli. Sono critiche costruttive, non distruttive. Perché ora vi do una lettura finale di quello che credo che sia giusto e che sia sbagliato. È una mia lettura soggettiva. Siete liberi di condividerla, di non condividerla, di rispettarla, di non rispettarla. poi è ovvio che nel caso vi chiedo di non condividerla e rispettarla. Siete liberi di fare quello che volete. È giusto essere preoccupati e chiedere qualcosa in più a questa Juve? Sì. È giusto evidenziare i limiti e i problemi? Sì. Questi limiti e questi problemi non vanno sminuiti, non vanno nascosti. È giusto chiacchierarne, è giusto metterli in primo piano. È sbagliato invece farsi prendere dal panico, etichettare come fallimentare il progetto novembre, chiedere l'esonero di Tiago Motta. Questa è la mia lettura soggettiva, vi invito a farne buon uso, potete farne quello che volete, questo è quello che credo io, non quello che dovete per forza di cosa credere voi. Ripeto, potete condividere oppure no, rispettare oppure no, però questa è la mia lettura. Io sono ancora ben saldo sul carro di quella che, secondo me, porterà, anche che non ha senso parlare di carri, lasciamo stare a parola al carro che poi mi mandano i matti. Io sono ancora ben convinto, ho ancora fiducia in questa Juventus e sono convinto che alla fine dell'anno la Juventus ci farà dire che è stata una buona stagione. Dove arriveremo poi? Lo vedremo, sono davvero dell'idea. Una volta recuperati un paio di giocatori che non abbiamo praticamente ancora avuto in stagione e che sono stati perni del calciomercato e quando arriveremo ad avere un sostituto di Bremer, perché quella è l'unica operazione di mercato che davvero dobbiamo fare, sperando che Milik recuperi perché Blauvis non le può giocare a tutte, poi riusciremo a tornare a pensare che si sta migliorando. Adesso si fa veramente fatica. Queste sono le critiche costruttive che mi sento di fare a Tiago Motta all'interno di un processo che secondo me è nato un po' troppo presto. Grazie. Grazie.